Amici di tuttandoroghi.net, se il Samsung Galaxy Gear 2 o il Samsung Galaxy Gear non fa per voi perché è troppo grande, ecco qui la nuova pensata di Samsung, Samsung Gear Fit, ovvero un accessorio interamente dedicato al fitness, capace anche di rilevare il battito cardiaco, come attraverso il sensore che è posizionato qui sul retro. Ma l'importante caratteristica di questo dispositivo è il display, il display è da 1.84 pollici ed è curvo, come potete notare è uno dei primi display curvi soprattutto adottati su questo tipo di dispositivi, questo sicuramente è uno dei primi, anzi forse è probabilmente il primo. Abbiamo ovviamente la funzionalità di orologio per capire sempre che ore sono, ma facendo uno scroll da destra a sinistra entriamo già in alcune applicazioni, possiamo già entrare. La prima permette di vedere le notifiche, la seconda permette di controllare un po' la multimedialità del nostro smartphone, mentre la terza permette di ritrovare il nostro smartphone tramite un avviso sonoro. Abbiamo poi il contapassi, abbiamo un'applicazione per tracciare il nostro esercizio e come dicevo abbiamo anche un'applicazione per misurare il battito cardiaco. Il battito cardiaco che viene misurato per l'appunto con il sensore posizionato qua in basso, o meglio qua sul retro, è affiancato dal connettore per la ricarica. Abbiamo poi il tasto di accensione e di spegnimento, come potete vedere si è appena spento. Possiamo una volta indossato misurare direttamente e subito il nostro battito cardiaco. Andiamo subito a fare una prova sul campo che poi è direi la cosa migliore. Proviamo subito, start. Come vedete sta misurando il battito cardiaco. Sicuramente ha un'applicazione davvero interessante, per chi fa sport, con il suo braccialetto, questo Gear Fit, può essere un accessorio vitale anche perché permette di sincronizzare tutti i dati con un'applicazione S-Feld che troviamo su Samsung e che permette dunque di avere tutto un database pieno di nostri dati per misurare la nostra attività fisica, la nostra salute e così via. Come dicevo oggi, vivere bene con la tecnologia. Samsung Gear Fit è un dispositivo davvero davvero interessante. Io non sono uno sportivo ma ho trovato questo dispositivo davvero una perla all'interno di questo stand. E soprattutto il display che è curvo è davvero davvero bello. L'ergonomia è buona come sul Gear 2 perché abbiamo sulla parte esterna una gomma zigrinata, mentre sulla parte interna una gomma ondulata che non fa sudare il polso. Prima di momento è tutto con il Samsung Gear Fit, un dispositivo molto interessante che sicuramente farà parlare di sé. Un saluto da Michele per Tutandroid.net